grazie a tutti grazie a tutti un po' di tocco di microfono un video molto semplice ma che io trovo estremamente rilassante spero che vi piaccia lo sfondo siamo in camera nella nostra camera e ne abbiamo le luci led dietro al letto e ho pensato che fosse uno sfondo carino per cambiare cosa quindi 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 appunto ero da un po' che non faccio un bel classico video chiacchiere aggiornamenti eccetera una cosa veramente leggera leggera ho provato a farmi questo look il trucco è normalissimo però ho provato a mettermi questi strass brillantini alla euphoria anche se non ho mai visto quella serie di uva però i look mi piacciono tantissimo e questo non lo so mi piace molto il trucco è abbinato allo sfondo quindi ditemi se se vi piace o se magari non vi piace perchè vi distrae insomma ditemi la vostra allora cosa dire per chi non mi segue su instagram soprattutto perchè non mi seguite su instagram vedete un sacco di chiedere le quinte potete dirmi la vostra io passo ora al giorno a rispondere i direct quindi avete anche un rapporto più diretto con me se vi può far piacere e poi molti dicono che le mie storie sono rilassanti quindi io voglio che questi cadano un momento all'altro tipo si sta chiamando la mia volta e comunque sono andata giovedì e venerdì a Sanremo non purtroppo all'Ariostone ma eravamo state invitati io e la mia piara a un Laura che saluto se staranno mai guardando questo video a una cena lì a Sanremo ed è stato bello anche poter vedere l'Ariostone e vedere un po' il clima che c'è a Sanremo chissà se magari un giorno riuscirò a partecipare come non dico ospite ecco però proprio a fare qualcosa lì dall'Ariostone mai dire mai i sogni i sogni non sono mai troppo grandi e questo è un periodo un po' particolare perché ho veramente tantissime idee che mi frullano per la mente e un po' mi spaventano perché ho anche un po' paura perché ho molta paura di fallire e un po' mi spaventano perché ho anche un po' paura che succeda veramente di non saperlo gestire o ho paura di sperarci troppo non so tutte queste cose ci sto lavorando però mi blocco molto però forse ho trovato una soluzione invece per il mio studio come saprete come vedete anche da qui io giro in casa di solito giro una stanza che è di là che però è piccolina e molto disordinata perché ci sono troppe poche troppe cose in poco spazio e soprattutto non è sonorizzata appena ho detto questa frase sono parte di cani per rottolineare che sì, non è sonorizzata vabbè, qui sono in camera da letto in una situazione uguale e insonorizzare una camera non è facile soprattutto, sì cioè è più facile mettere una camera già insonorizzata o costruire una camera e renderla insonorizzata ma rendere una stanza normale insonorizzata nel senso isolarla dai suoni esterni è molto molto complicato e non soprattutto questa stanza non è adatta però forse ho trovato la soluzione speriamo per due settimane dovrei andare a Milano a vedere lo showroom di alcune proprio unboxing sonorizzate perché io sono anche nelle radio negli studi di registrazione che sono personalizzabili e vedremo se riesco ad adattarlo adattarlo allo spazio che ho a disposizione e spero che il prezzo non sia bolle anche se vi giuro che ho raggiunto un tale livello di un po' frustrazione che penso non spenderei anche una cifra quasi insensata per avere il mio studio perché è l'idea di poter girare all'ora che voglio a qualsiasi ora del giorno non avere casino non avere interruzioni mi sembra un sogno una cosa oltre qualsiasi mia aspettativa ma è una cosa che devo fare perché mi sta un po' pesando girare solo nei weekend non pesando girare ma il quando nei weekend e nei di sera e non riesco neanche a essere così concentrata mi piacerebbe molto girare verso le alle 4 di pomeriggio dovrei dare il meglio e soprattutto avere uno spazio anche dedicato grande mi permetterebbe speriamo di fare un set più elaborato insomma spero che arriveranno dei miglioramenti con questa cosa incredibile quindi però c'è da dire che sono anche grata di essere arrivato a un punto per cui cioè essere arrivata a un a dei numeri tali a un a un livello tale da 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 poter pensare di costruirmi uno studio e un un po' ringrazio me e un po' ringrazio voi 50 e 50 voi perché senza le persone che mi seguono cioè io non avrei nulla senza chi mi segue ma ringrazio anche me perché non ci ho mai mollato e ci ho sempre creduto quindi è giusto dare un 50 e 50 secondo me quindi niente la 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 prossima settimana oggi è domenica mercoledì parto per Vienna probabilmente sarà l'ultima volta che andrò a Vienna non lo so a trovare appunto la mia migliore amica la mia testimonianza anche e andremo in due a trovarla e vorrei tanto riuscire a girare sia un video per il secondo canale tipo tutte le cose vegane che assaggio tutte le pinta carne pinto pece eccetera tutte le cose che trovo che qui in italiano si trovano sia un un video smr di Vienna e non so ancora come esattamente sicuramente la cosa più bella sarebbe riuscire a rifare il video che avevo fatto a luglio per chi non lo sapesse in viaggio di nozze mi hanno rubato il cellulare e io avevo ma continuo a vedere in viaggio di nozze mi hanno rubato il telefono io avevo iCloud pieno quindi ho perso tutti i file perché non erano sincronizzati con iCloud e fra quei file c'era anche un video di cui ero fierissima e nel quale la carne mi aveva aiutato tantissimo perché mi aveva proprio filmato il tutto avevamo spesso una giornata intera a girare per Vienna e mi ero preparata tantissimo per quel video e sono veramente contenta avevamo girato un roleplay quella di Vienna andando proprio nei punti più famosi e mi hanno informato sulla storia eccetera purtroppo appunto quel video è stato perso sono veramente tanto di smianciuta e chi lo sa forse riuscirò a rigirarlo però a luglio c'era molta più luce e sole sia luce per più tempo sia più luce più sole quindi vedremo se riusciremo a farlo non mi piacerebbe tantissimo provare a rifarlo perché secondo me era un format super bello unica cosa non sapevo neanche come sarebbe venuto perché ovviamente io avevo il microfono il microfono in mano ma non era acceso perché il la confusione intorno era esagerata non sarebbe assolutamente risultato rilassante per il traffico per il traffico per le urla per magari qualcuno che suona per la strada e quindi avrei dovuto dubbiarmi e non ci avevo ancora provato quindi non so se sia fattibile una cosa del genere vedremo però visto che ormai sono andata a Vienna visto che ormai sarà tipo la settima volta che vado a Vienna non sento tutto questo bisogno di visitarla e fare chissà che cosa e non lo so non vi prometto niente spero di riuscirci o comunque di girare un contenuto smr a Vienna anche molto semplice comunque e diciamo che questa non la considero troppo una vacanza cioè una vacanza però diciamo che non è importante il luogo quanto il fatto che passo un po' di tempo da sola con le mie amiche perché è molto difficile con tutti che lavorano più si va avanti più difficile trovare del tempo per stare insieme bene quindi sono molto contenta per questa cosa che ci siamo riusciti insomma riusciti e poi mi piacerebbe tantissimo a marzo andare una settimana ma anche cinque giorni una settimana in la lapponia finlandese dovete sapere che non lo so essendo anche il mio lavoro molto statico è fatto di molte molte cose statiche magari qualche evento molto bello ma è raro la maggior parte appunto in casa ho bisogno di un po' di stimoli esterni e ho bisogno di viaggiare ho bisogno di vedere nuove cose a me sapere di avere un viaggio davanti a cui mirare mi motiva tantissimo a dare il massimo per ameritarmi quel viaggio che non è un meccanismo sano però è un meccanismo un pochino disfunzionale però insomma comunque mi aiuta in generale a a a caricarmi perchè so che quel viaggio arriverà e mi mette mi da proprio tanta energia mi da tanto entusiasmo mi mette gioia di sapere anche solo che andrò in quel posto e vediamo se riesco a organizzarlo vediamo se riusciamo a trovare delle date e speriamo di vedere la loro lavoro reale anche perchè noi volevamo andare in Finlandia a novembre 2020 e lo stavamo organizzando ottobre 2020 quando quando sembrava che si potesse comunque viaggiare viaggiare poi a novembre avevano chiuso tutto e per fortuna non avevamo prodotto niente però appunto non mi è rimasto questo pallino della naponia finlandese e vorrei in realtà vorrei tanto andarci anche con un viaggio di gruppo però è un viaggio che in realtà è un viaggio che sogniamo sia io che mio marito quindi mi tengo i viaggi di gruppo per viaggi che magari voglio fare solo io ce ne sono tipo anche non so se il marocco abbia riaperto piacerebbe tantissimo andare in marocco in ogni caso io che digerivo la colazione nelle live questo verso non lo chiamiamo il rosbo comunque raccontatemi voi come state cosa state facendo di bello com'è andato questo periodo se fate l'università io vi auguro al meglio state state concentrati resistete capirete che vi arriveranno tante soddisfazioni ci sono passata e lo capisco però forza anche per chi fa la scuola forza forza e per chi lavora da meglio secondo me io sento io sento a volte alcuni discorsi di persone che dicono io vorrei tipo vincere super una notte o tipo avere un po' di soldi o se fosse ricco di famiglia non farei niente cioè non lavorerei e io non sono d'accordo non lo so a volte mi lavorano perché come esseri umani abbiamo il bisogno primario di sentirci utili e anche tipo viaggiare il mondo così tanto per secondo me dopo un po' stanca perché dobbiamo avere uno scopo dobbiamo avere un obiettivo qualcosa a cui mirare o comunque un o comunque un ruolo ecco quindi magari si ti do l'occasione di avere il lavoro dei tuoi sogni o di che ne so passare le tue giornate a fare volontariato io farei così però insomma sono andata a scrittare i cani che rompevano comunque è un ragionamento un po' a caso ma volte mi viene da fare questi ragionamenti e al resto non è che succeda molto nella mia vita devo essere sincera certo del resto sono contenta che ho saputo che una mia amica si sposa e quest'anno due matrimoni uno a giugno uno a giugno e uno ad agosto e mi piacciono i matrimoni tanto io non ho mai vissuto un matrimonio da sposata e penso di è ancora più bello perché un po' rivivi ciò che hai vissuto e soprattutto ti accorgi ancora di più sai che felicità provano le persone che si sposano e secondo me è ancora tutto più bello insomma sai come si sentono più o meno e la rende ancora più magico e soprattutto un matrimonio quello di giugno farò l'acconciatura alla sposa perché per chi non lo sapesse io prima di iniziare con il canale smr quindi secoli fa faccio un sacco di acconciature dovevo fare un sacco di trecce eccetera e quindi me la cavo ancora un pochino e e quindi le farò l'acconciatura e sono contenta sono un po' ridata perché ho tanta responsabilità però sono anche contenta perché sono contenta di fare parte di un momento così delicato e così emozionante della giornata e sono contenta e anche che si vedi di me a tal punto di lasciarmi fare l'acconciatura quindi molto molto contenta molto carica sono che ho vestito mettermi e sono sono veramente veramente entusiasta 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 e nulla cos'altro vi posso raccontare vi ho detto non succede molto nella nella mia vita adesso nella vita molto tranquilla non so sì ho tanti progetti all'orizzonte alcuni si andranno avanti altri no perché sempre così su dieci progetti che si presenta alla fine in bordo ne va uno massimo due e adesso è da gennaio che me lo dico però lo farò troverò il coraggio troverò la forza di farlo voglio cercare anche un una social media manager che mi aiuti con i contenuti che mi aiuti anche a girare un pochino i contenuti insomma una social media manager anche un pochino non assistente però è proprio aiutante anche nei contenuti se bisogno che qualcuno mi aiuti a girare un video magari i filmi dall'esterno ecco è una persona capace che abbia anche senso estetico ecco in queste cose e tra l'altro mi piacerebbe anche proprio mettere un un come si dice un annuncio in università perchè nella mia città c'è l'università di appunto marketing e comunicazione e mi piacerebbe anche assumere qualcuno di giovane carico e non so dargli la possibilità di cominciare la sua carriera in un modo diverso o nella solita azienda non so mi piacerebbe e mi servirebbe anche un volto un po' più giovane e attivo che mi sproni e quindi vedremo mi carica molto questa cosa ma mi spaventa anche un po' la responsabilità di una persona cioè la l'idea di dire ok io do lavoro a una persona e insomma quindi devo devo fare in modo di riuscire a fare abbastanza lavoro ora guadagnerà abbastanza riuscirò a mantenere lei e me tutte le spese lei lui non è quello quindi mi carica e un po' mi spaventa ma soprattutto mi carica perché mi rende molto felice anche il pensiero di essere arrivata a un certo punto del mio percorso per cui ho bisogno di qualcuno che mi aiuti per cui posso prendere qualcuno che mi aiuti per cui posso cominciare ad allargare il mio team è veramente un sogno stupiratevi quindi nulla che molto contenta sono molto carica ma la motivazione deve essere anche coltivata perché in questo momento in cui sto parlando ad esempio sono molto motivata ma in altri momenti invece sono completamente bloccata bloccata intendo dire ok rimandiamo a quando sarò più sicura o quando ci saranno altre condizioni che voglio dire una mezza cavalata fare questa cosa perché non ci saranno mai le condizioni perfette o condizioni che io considererei perfette niente ditemi davvero cosa ne pensate di questo sfondo per quanto semplice io lo trovo veramente veramente carino e ogni tanto per cambiare tra l'altro io posso comunque anche cambiarle quelle luce non in questo momento perché dovrei farlo come nell'app sul cellulare sto filmando col cellulare però insomma e niente io vi vi ringrazio davvero tanto di essere stati di avermi ascoltato di avermi ascoltato un po' il mio flusso di pensieri era un medio un po' così di flusso di pensieri che ho visto spero sia stato anche rilassante mi abbia donato compagnia mi abbia fatto addormentare comunque rilassare e di solito questi video li tengo per magari mettere a posto fare qualcosa di un po' non uso stilare ma anche disegnare colorare o scrivere qualcosa insomma fare una cosa di molto semplice e mi tengo questo sottofondo per per compagnia quindi grazie di avermi ascoltato grazie di esserci sempre grazie di mettere commentare di trovare anche il tempo a volte di commentare io lo aprendo sempre tanto e cerco sempre di mettermi in un cuoricino ci provo perché ho molto importanza ciò che pensate del mio contenuto e mi mi fa capire anche insomma cosa mi piace e cosa non mi piace ma mi fa mi fa anche piacere proprio leggere quanto apprezzate i miei contenuti perché mi carica per farne sempre di nuovi e spero di migliori non questo in particolare però in generale e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta l'ora di ne 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 e augurarti augurarvi, augurarti augurare a te a te, a te, a te una buona, buona, buona notte buona notte sonja, 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 sonja dur sonja dur sonja dur good night Noi, 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 noi. Noi, 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 no buona notte ai miei pasticcini senza glutine vi voglio bene grazie di tutto come sempre vi mando un bacione che li spera? grazie